Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Co-Credit Metaprezzo. Stiamo vedendo oggi un raffronto fra un Emporia Armani e un Armani Exchange. Cominciamo a vedere l'orologio di Emporia Armani. Sicuramente è la prima cosa, la confezione appare più elegante. Vediamo l'orologio. E' un orologio munito di calendario che ha i due indicatori di ore e minuti in stile d'Acheromane, mentre l'indicatore dei secondi è piuttosto orientaleggiante. Vediamo che sopra vediamo il brand Emporia Armani, lo avvicino un poco. Sopra vediamo il brand Emporia Armani ed la scritta. Eccola là, la scritta Emporia Armani, vediamo la camera all'interno del telefonino, la scritta Emporia Armani invece in questo punto, eccola là l'ho messa a fuoco. L'orologio ha la caratteristica, vedete c'è scritto Emporia e dall'altro lato c'è scritto Armani, ha la caratteristica di avere un cinturino in gomma. Lo esco dall'anello di contenimento, eccolo qua. L'oggetto è gradevole, senza dubbio è gradevole. Il costo di questo oggetto è di 199 euro. Andiamo a vedere adesso invece l'orologio di Armani Exchange. Come dicevamo in questo caso, non è sempre così, in questo caso sicuramente il contenitore è meno impegnativo. Questo orologio ha la caratteristica innanzitutto di queste fetomimetiche all'interno dell'orologio, che è abbinato con un gradevolissimo bronzato satinato della cassa e del cinturino, mentre come vediamo la parte centrale del cinturino è un grigio verde militare. L'orologio vediamo che ha la scritta X Armani Exchange in colore arancio, così come in colore arancio è l'indicatore dei secondi. L'orologio sicuramente si distingue innanzitutto per il cinturino con il doppio punto di sicurezza e il costo di questo prodotto è di 189 euro, quindi 10 euro nemmeno del prodotto di Emporio Armani. Andiamo a vedere le offerte di co-credit metà prezzo inerenti a questi due prodotti. Il costo dell'orologio di Emporio Armani è di 199 euro, quindi 199 euro. E co-credit metà prezzo riconosce sempre lo sconto per contanti, anche se si tratta di un pagamento relazionato. Quindi in questo caso leviamo il 5% dello sconto contanti, lo sconto cassa, e viene l'oggetto 189 euro. Poi diviso 2 perché noi pagheremmo subito solamente la metà, quindi 94,50 euro, mentre pagheremmo l'altra metà dopo 60 giorni, quindi gli altri 94,50 euro. Il pagamento è diviso in due rate uguali, una che si paga subito alla consegna dell'orologio e l'altra che si paga dopo 60 giorni, quindi dopo due mesi della consegna dell'orologio. Andiamo adesso invece al prezzo dell'orologio di Armani Exchange, che costa 189 euro. 189 euro anche in questo caso viene riconosciuto il 5% dello sconto per il pagamento contanti, quindi diventa 179 euro. 179 euro che viene anche in questo caso diviso in due perché noi pagheremo subito la metà e l'altra metà invece la pagheremmo dopo 60 giorni. Quindi pagheremo subito 89,75 euro ed altri 89,75 euro li pagheremo dopo due mesi. Questa formula di pagamento effettivamente è nata già a parecchio tempo direi io perché è nata nel 1911 grazie alla catena successivamente catena di supermercati. A quel tempo era una vendita per corrispondenza della Sears che offriva questa formula di dilazione di pagamento in modo che gli agricoltori potessero attendere il frutto del loro sudore, insomma i prodotti agricoli per pagare, per completare di pagare i loro impegni. Bene, grazie, grazie sempre per ascoltare i video di CoCredit Metà Prezzo e arrivederci al prossimo video.